Ci sarà anche Super Mario, come accade l'anno scorso alla partenza dell'edizione 2014 della Gran Fondo Cipollini. Il via alla gara sarà dato da Piazza Aldomoro a Capannori. La Gran Fondo, vera e propria, si dipanerà su 143 chilometri con 2000 metri di dislivello. Il percorso di mediofondo, invece, sarà lungo 114 chilometri con 1300 metri di dislivello. Dopo il via i corridori si dirigeranno verso Massarosa per affrontare il Monte Chiesa e il Pitoro, con la successiva discesa che porterà la carovana in Val Freddana, una delle zone tipiche di allenamento di Super Mario. Poi le rampe per raggiungere Matraia e Tofori. Un tratto di respiro precederà l'erta di Monte Carlo e, dopo il passaggio dal caratteristico borgo, una veloce picchiata porterà ad affrontare un tratto pianeggiante per poi riprendere a salire in prossimità di Sant'Andrea di Compito. Qui i percorsi si biforcheranno con la Gran Fondo che affronterà la lunga scalata al Monte Serra, prima di tornare a Capannori. Il mediofondo si dirigerà invece verso San Ginese e poi al traguardo. La gara è promossa dall'AS di Mario Cipollini, in collaborazione con Cicli Franceschi e Comune di Capannori, con il contributo di Alto Pack Packaging e Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno.